Si può essere intelligenti, ma non significa per niente che rimani sempre umano. Per la nostra e la vostra libertà. È il titolo dell'evento svoltosi sabato pomeriggio in piazza 20 Settembre, alla presenza di circa 200 persone, dove protagonista è stata la comunità ucraina, che un anno dopo dall'inizio del conflitto con la Russia non può dimenticare. Una data incancellabile è quella del 24 febbraio, giorno dell'invasione russa, che a distanza di tempo evidenzia l'amore per la patria di un popolo disposto a tutto, pur di difendere la propria libertà. Ci siamo riuniti per manifestare il nostro sostegno all'Ucraina, con i rappresentanti sia del popolo ucraino, come Associazione Insieme per Ucraina, Ucraini Marche, sia gli italiani, solidali, non indifferenti, tanti associati. Come si fa per contattarvi? Siamo Associazione Insieme per Ucraina, qui a Fano, la nostra sede. Si può contattare, anche qui si vede il numero dell'associazione, c'è il nostro sito, ci sono le pagine su Facebook, Telegram e Instagram. Lei ogni giorno segue tanti rifugiati, mi diceva che qua a Fano ce ne sono tanti. Sì, ci sono tantissimi, i rifugiati prendono la frutta e la verdura ogni settimana, prendono i pacchi elementari una volta al mese, comunque mi aiutano tante associazioni qui a Fano. Abbiamo anche due punti di raccolta, uno via Alberti 60 e un altro a Paricentro, primo mercoledì ogni mese, che la gente può portare i vestiti, cibo per aiutare il popolo ucraino. Dopo un minuto di silenzio e sulle note dell'in-Ucraino, in modo composto e rispettoso, i componenti della comunità di Fano hanno portato le proprie testimonianze ai presenti in piazza. Un appuntamento organizzato grazie al patrocinio del comune di Fano, che ha dimostrato la vicinanza al popolo martoriato dalla guerra. Essere in piazza oggi insieme alla comunità ucraina, prima che un dovere istituzionale, è un imperativo morale e civile, mi sento di dire. Sono qui come assessora, ma anche come cittadina, a fianco di una comunità, di un popolo violato da una guerra ingiusta e non dobbiamo avere paura anche oggi in piazza di dire parole chiare rispetto a chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. L'Ucraina è un paese che deve ritornare libero, uno Stato democratico che ha diritto alla propria autonomia e la propria libertà. E oggi siamo qui per ricordarlo a fianco dei tanti ucraini sfollati che hanno perso figli, genitori, hanno case distrutte, che hanno familiari lontani, che si svegliano nel cuore della notte fra le macerie al suono delle sirene. La serata si è conclusa con una suggestiva immagine di persone raccolte attorno ad una stoffa di 15 metri, coi colori della bandiera ucraina, che hanno cantato ed acceso le candele in segno di speranza e libertà. Grazie a la Give. Grazie a la